Avvocato buongiorno, come sta? E' molto depresso, tutto nasce da un'omonimia con uno dei tanti volumoseghi in Italia. Mi ha fatto venire in mente un episodio di Prima della Guerra. C'era un giornalista che si chiamava a Milano, andò da Cavalli, inciampò e il giornale pubblicava che era morto. E lui mi risponde, no, non sono ancora vivo. Però dopo pochi giorni è morto, nessuno pubblicò nulla di lui, perché non erano sicuri se fosse indietro, ma proprio i casi della vita. Ho capito. In questi casi si dice invece che porti fortuna, che si dice che si allunga la vita? Ma, cosa vuole che mi allungo? Ma il 105 sono stupo. No, io leggo, scrivo, ho detto, porto troppo con le monete e il tempo passa. Io sono qui, recluso per il mio alloggio di Zia Cagliano 8, della cooperativa Giornalisti, Pampo su Montina. Ma, che cosa ha pensato quando ha visto tutte queste manifestazioni, anche di affetto? Questo spiacevole annuncio che io ero morto, che io, dalla morte effettiva, di un Bruno Sergio, di Egeviglia. Sì. Che io non ho mai conosciuto. Ho capito. A lei, grazie. A lei. A Zia Lurian, per lei. Buona giornata. Buona giornata.